bene amici di addicted to fly benvenuti in questo nuovo video oggi piccolissimo video per annunciarvi una mega offertona su banggood per lo xiaomi mi drone si amici come vi dicevo oggi faccio questo piccolissimo video per annunciarvi che sul mio storico di riferimento banggood è partita da oggi una mega offertona fine esaurimento scorte per il drone della xiaomi quindi io vi linkerò sotto nelle descrizioni il link per l'acquisto con il codice coupon di sconto che vi permetterà di acquistare questo fantastico drone a circa 280 287 euro quindi non fatevi sfuggire l'occasione ripeto la promozione vai da soprattutto per il drone della xiaomi a 1080p ottimo drone anche se non 4k però io come avete visto sul mio canale i video postati di riprese aeree sono filmati in 1080p a 60 frame al secondo quindi vi rinnovo l'invito ad acquistare se qualcuno fosse interessato a questo drone in questi giorni con il coupon di sconto che troverete sotto nel link in descrizione dove metto anche il link per l'acquisto comunque vi metto il coupon anche qui in sovraimpressione andate a vedere sulla scheda qui in alto la recensione dello xiaomi per chi ha tante funzioni bel drone un drone professionale per riprese aeree con l'occasione volevo anche ricordare che è ancora in corso per qualche giorno il mio giveaway pasquale dove metto in regalo il torres e un drone dell'eashin e013 completo di occhiali io con questo vi saluto ci vediamo ai prossimi video non perdetevi l'altra recensione delle ultime notità del mondo dei droni ciao da alessandro alle prossime e mi raccomando iscrivetevi al canale